Amici miei concittadini, buongiorno, buon anno, anzi a Cerignolo si dice buone feste fatte a tutti, ci sentiamo per la prima volta in questo 2016, quindi liberiamoci subito degli auguri, speriamo che le vostre feste, spero che le vostre feste siano andate nella maniera migliore possibile, se a qualcuno interessa come sono andate le mie direi perfettamente bene, anche perché sono rimasto qua, sono rimasto a casa con i miei amici, con la mia famiglia, con i miei figli e quindi la maniera migliore per cominciare l'anno solare. Sarà un anno importante cari amici ascoltatori, sarà un anno fondamentale per la nostra città, vi dico subito quale sarà la questione più centrale di quest'anno. Sarà l'arrivo nei primi 6-7 mesi di questo 2016 di una veramente consistente quantità di finanziamenti pubblici. A oggi sulla base delle carte, sulla base dei finanziamenti concessi, noi dovremmo avere nello scorcio di tempo che va da gennaio in corso fino a giugno, luglio di quest'anno, sul territorio un investimento pubblico che supererà sicuramente i 30 milioni di Euro, io sto puntando ai 35 milioni di Euro di lavori, di interventi pubblici che cambieranno buona parte della faccia di questa città, ma quello che mi preme di più sottolineare e considerare è che se riusciremo e riusciremo senz'altro a far arrivare, sono già stanziati, a far impiegare nella città di Cerignola tutto questo denaro, noi potremo avere un 2016 propizio, un 2016 importante dal punto di vista del contrasto alla disoccupazione, perché sono finiti i tempi in cui la gente si affollava dietro la porta del sindaco in cerca di un posto di lavoro e riceveva le solite assicurazioni, vedrò, farò, dirò. Quando io sono arrivato in questo studio, in un cassetto, ho trovato ancora i pizzini, cioè gli appunti delle persone che erano convinti di aver lasciato nome, cognome e indirizzo perché gli amministratori avrebbero dovuto procurare loro un posto di lavoro. Qua pizzini non ce ne sono, tanto è vero che voi non la potete vedere, ma la mia scrivania non ha cassetti ed è una coincidenza, ma è un modo per dire, io non ho niente da nascondere nei cassetti, né pizzini né altro. L'occupazione non la trova il sindaco, l'occupazione la trova il sindaco quando fa arrivare finanziamenti. Il sindaco non fa raccomandazioni, il sindaco fa arrivare soldi nella città. Se arrivano i soldi nella città, le imprese devono assumere, i lavoratori che vengono assunti spendono e si mettono in circolo questi denari. Vi ho detto, più di 30 milioni di euro nei prossimi mesi. Sono cifre da capogiro, perché? Perché possono realmente dare una scossa al problema della disoccupazione nella nostra città e inoltre sono investimenti che poi lasceranno ovviamente una traccia definitiva nel tessuto urbanistico, nel tessuto dei servizi della nostra città. Vi faccio un esempio. Credo che potranno partire in brevissimo tempo i lavori per un milione di euro al piano delle fosse. Così come a ruota seguiranno in brevissimo tempo i lavori a Piazza del Cinquecentenario, la vecchia cabina elettrica, ex cabina elettrica, a Piazza del Cinquecentenario, a Via 13 italiana. Lì ci sono due milioni e mezzo di investimento che abbiamo ottenuto e che dobbiamo tradurre subito in lavori. Credo che a metà gennaio scada la gara, la presentazione dei progetti per assegnare l'appalto e quindi poi una volta aggiudicata la gara si potrà partire con i lavori. Così come siamo veramente prossimi anche ad assegnare l'appalto per la strada di collegamento fra il rione Torricelli e la statale 16, ex statale 16 via Foggia e anche lì si tratta di circa un milione di euro di lavori che saranno aggiudicati e poi evidentemente eseguiti. Quindi quando io dico 30 milioni di euro puntiamo ai 35 e fate già i primi conti, un milione per il piano delle fosse, due e mezzo per Piazza del Cinquecentenario, faremo 24-25 alloggi popolari e un altro milione per la strada fra Torricelli e Via Foggia, già vi ho nominato per 4 milioni e mezzo di investimento. Abbiamo dato una spinta fortissima ai lavori per l'ampliamento del cimitero. Lì ci sono 15 milioni di euro in gara, già giudicata dalla precedente amministrazione, poi tutto si era impantanato. Noi siamo intervenuti in maniera molto energica, molto attiva, abbiamo sbloccato tutti gli intoppi e credo che siamo adesso in dirittura d'arrivo perché completata la procedura degli espropi, spero senza contestazioni e senza vertenze giudiziarie, potremo cominciare i lavori. Si tratta di 15 milioni di euro di lavoro, ovviamente tutti questi soldi che arrivano contemporaneamente sono spalmati in un arco di tempo, vedremo comunque di accelerare. E anche questa cosa del cimitero io mi sento di ascriverla al merito dell'amministrazione che ho l'onore di guidare perché quando noi abbiamo trovato la situazione già avviata, questa situazione era sì già avviata ma era anche impantanata. l'abbiamo tirata fuori noi dal pantano, fosse tutto nato in mano a me probabilmente avrei fatto scelte diverse, ho trovato delle scelte già fatte, non potevo fare altro che accelerare i tempi di questo intervento molto importante e finanziato, vi ho detto, con 15 milioni di euro. l'abbiamo fatto con soddisfazione della ditta giudicataria dei lavori e quindi conto con la collaborazione di questa società, conto di far partire questo intervento nel più breve tempo possibile. Ovviamente tutte queste gare si fanno con la metodologia della proposta migliorativa, almeno quelle che abbiamo fatto noi, praticamente quelle che vi ho citato, escluso il cimitero. Vi racconto questo aneddoto a un mio carissimo amico, amico molto intimo ma che non si occupa di politica e di amministrazione, qualche buontempone, qualche bugiardo, qualche pinocchio, ce ne sono tanti in giro in questo periodo, è andata a raccontare la favoletta di una mia aggiudicazione di un appalto da 2 milioni e rotti di euro, così senza gara e senza evidenza pubblica, cioè esattamente il contrario di quello che ho sempre fatto. Ovviamente ho potuto dire al mio amico che si trattava di chiacchiere, chiacchiere di gente disinformata, ma anche chiacchiere di qualche furbastro che diffondendo calugne, menzogne, false notizie cerca di oscurare l'immagine dell'amministrazione e anche quella mia personale. Allora dico a tutti, a tutti gli interessati, perché alla gran parte della cittadinanza quello che interessa è che arrivino i soldi, si facciano i lavori, la città va davanti e un po' di gente venga occupata, però c'è qualcun altro a cui questa cosa può interessare e che con l'amministrazione metta si fanno le gare e nelle gare il politico, l'assessore, il sindaco non si intromettono, c'è questa abitudine in questa città, dovete sapere che la legge dice che il sindaco decide di fare questo investimento, la gara per vedere chi vince l'appalto non appartiene alla competenza del sindaco e dell'assessore, bensì del dirigente tecnico, quello cioè che deve preparare gli atti e giudicare i progetti facendo le graduatorie di coloro che partecipano alle gare. Ora a Cerignola negli anni scorsi questo principio di separazione, l'indirizzo politico ai politici, la gestione ai dirigenti e ai funzionari non era stato mai applicato perché si andava dal sindaco e dall'assessore a chiedere chi deve vincere la gara. Vi immaginate quando sono arrivato io che ho detto una cosa semplicissima a chi me lo chiedeva, le gare le vince chi fa la proposta più favorevole, più vantaggiosa per l'amministrazione comunale. Quindi non solo applicando questo principio avremo trasparenza e onestà, ma in più avremo dei vantaggi perché tutti gli imprenditori di Cerignola e di fuori Cerignola devono sapere che per fare dei lavori a Cerignola bisogna vincere le gare e per vincere le gare non serve mandare il panettone al sindaco, all'assessore o al dirigente le gare le vinceranno coloro che presenteranno i progetti migliorativi più interessanti, più concreti, più utili per la città. Vediamo se si ficca nella testa di tutti quanti che questa è la legge e così ci si deve comportare e così si comporterà la mia amministrazione perché se becco qualcuno che non rispetta queste regole io sono il primo che lo fa arrestare. Chiaro? Bene, parliamo di altre cose ugualmente piacevoli. Il 2 di gennaio è stato ordinato vescovo destinato alla nostra diocesi Don Luigi Renna, Monsignor Luigi Renna. È stata una cerimonia quella dell'ordinazione del nuovo vescovo di grande suggestione, molto commovente, molto partecipata, c'erano 4 mila persone e oltre al palazzetto dello sport di Andria e qualcuno ha potuto vedere anche la diretta televisiva. È stata veramente una bellissima cerimonia ben organizzata. Adesso il giorno 16 di gennaio, sabato prossimo, il vescovo prende possesso della sua cattedra, entra nella sua diocesi, città più importante della diocesi specificamente Cerignola, quindi l'ingresso in diocesi del nuovo vescovo avverrà entrando nella città di Cerignola il giorno 16 di gennaio. Intorno alle 15 e 30 lo aspettiamo con provenienza da Bari, lo aspettiamo all'angolo del Barreale, l'incrocio fra via 20 Settembre e il corso principale. Perché lì? Perché Sua Eccellenza ha deciso che come primo atto che compirà nel momento in cui metterà piede a Cerignola sarà quello di rendere una visita all'ospizio Solimini. È una buonissima scelta, non devo dirlo io, è una scelta eccellente perché dimostra come il nuovo vescovo ha scelto la sua politica pastorale, è quella cioè di dedicarsi a coloro che hanno più bisogno, in questo caso gli anziani che vengono ospitati al Solimini, dei quali io sono personalmente amico perché al Solimini per fortuna mia mi è capitato di recarmi numerose volte, ne sono uscito sempre rallegrato e rinforzato nella volontà di occuparmi sempre più e sempre meglio delle persone che hanno più bisogno. Dopo la visita al Solimini il vescovo tornerà a piedi verso il barreale e poi si avvierà verso il comune di Cerignola. Davanti al comune è prevista la cerimonia civile con la presenza di tutte le autorità civili e militari, il vescovo che verrà accolto ovviamente dal sindaco di Cerignola e l'indirizzo di saluto a nome di tutti i sindaci della diocesi che il sindaco rivolgerà a Monsignor Luigi Renna e la risposta di Monsignor Renna. Dopo la cerimonia civile il vescovo sempre a piedi, sempre percorrendo il corso principale nel senso opposto a quello di marcia delle autovetture, raggiungerà la cattedrale, prima l'episcopio e poi la cattedrale, il nostro duomo dove si svolgerà la cerimonia religiosa. Noi ovviamente abbiamo competenza a predisporre l'accoglienza del vescovo solo per quanto riguarda la cerimonia civile e quindi ci siamo già prodigati e faremo di tutto per accogliere il nostro nuovo pastore con grande sobrietà senza eccessi ma anche in una condizione che ci consenta di esprimere tutta la gioia, la letizia che ci pervade nel momento in cui Monsignor Luigi Renna entra nella sua diocesi non avendo ancora compiuto il cinquantesimo anno di età perché se la memoria non mi tradisce il compleanno, il cinquantesimo compleanno del vescovo cade esattamente una settimana dopo il suo ingresso a Cerignola il 23 di gennaio, 50 anni compie il nostro nuovo vescovo, la cui prima uscita ufficiale nella qualità di vescovo sarà, guarda caso e guarda che fortuna, in occasione della festività di San Sebastiano che per chi non lo sapesse è il patrono della polizia municipale, dei vigili urbani di tutta l'Italia e quindi per la prima volta sarà festeggiato il santo potettore della polizia municipale, sarà festeggiato a Cerignola con una mess al convento, alla chiesa dei Cappuccini che sarà celebrata appunto da Monsignor Luigi Renna che poi parteciperà anche alla cerimonia civile in comune che culminerà con la consegna dei gradi ai vigili, ai sottufficiali della polizia municipale. Quindi abbiamo questo evento importante a quale invito a partecipare tutta la cittadinanza e cerchiamo di creare subito quell'afflato, quella comunione, quel feeling, quella simpatia col nostro nuovo vescovo. Vedrete, Monsignor Luigi Renna ha un sorriso che incanta, forse solo per questo conquisterà tutta la nostra città perché veramente ha un sorriso irresistibile e mi ha ricordato quando l'ho abbracciato alla ordinazione, mi ha ricordato il sorriso che io tengo più nel cuore, quello di mio padre che tengo più vivo nel mio ricordo, la stessa genuinità, la stessa spontaneità, la stessa accattivante simpatia. Ma vedrete, imparerete tutti insieme con me quante siano le qualità di questo sacerdote, di questo vescovo che è stato accompagnato ad Andria il giorno dell'ordinazione da un entusiasmo e da una manifestazione di stima, di ammirazione veramente commovente, veramente importante. Ci siamo emozionati noi che pure eravamo semplici spettatori. A questo proposito, dato che tutte le belle cose qualcuno deve inventarsi sempre qualcosa per turbarle, per guastarle, ho visto una inutile polemica sulla partecipazione di non so quale delegazione del comune di Cerignola a questo avvenimento del 2 gennaio scorso ad Andria. Veramente si cerca il pelo nell'uomo per poter fare un po' di polemica di bassa lega. La celebrazione, la ordinazione del vescovo Don Luigi Renna è stata organizzata dalla curia di Andria, quindi nessun sindaco di Cerignola, nessun presidente del Consiglio Comunale di Cerignola poteva invitare chi che sia a partecipare perché noi eravamo invitati. Dico noi e mi sbaglio, perché l'unico invitato è stato il sindaco di Cerignola e nell'invito al sindaco di Cerignola era precisato che l'invito era strettamente personale. Tanto è vero, sul sito del comune ci sono le fotografie, vedete la prima fila del palazzetto dello sport occupata dal sindaco di Andria Giorgino, che era il padrone di casa, dal sindaco di Minervino Murge, paese di origine del vescovo Monsignor Luigi, il collega Superbo, se non ricordo male. Al terzo posto c'era il sindaco di Cerignola, al quarto posto il sindaco di Ascoli Satriano, i sindaci dei due paesi a cui è intestata la diocesi e poi seguivano tutte le altre autorità. Quindi non c'è stata nessuna delegazione del Consiglio Comunale, dei consiglieri comunali di Cerignola, c'è stato soltanto il sindaco, poi assessori, consiglieri comunali, cittadini normali che hanno voluto partecipare all'evento sono venuti spontaneamente, sono venuti con la loro volontà, di loro volontà e hanno partecipato all'avvenimento, c'erano per questo pullman che venivano da Cerignola, quindi chi voleva partecipare non aveva bisogno di un invito, perché non c'era l'invito, aveva bisogno soltanto di mettere le gambe in spalla e di arrivare ad Andria. Invece la cerimonia dell'ingresso di Monsignor Luigi Renna a Cerignola, almeno la parte civile, viene organizzata dal Comune di Cerignola, tutti saranno invitati, ovviamente per tutti è riservato un posto nella manifestazione civile e sarò curioso di vedere quali consiglieri comunali parteciperanno a questa manifestazione. Credo di avere ancora qualche minuto, voglio soltanto dedicare, magari poi domani parliamo di altre cose, voglio dedicare questi pochi minuti al canile comunale, voi sapete qual era la condizione del canile, che poi comunale non era perché era di proprietà privata, il canile usato, diciamo così, dal Comune, noi l'abbiamo noi come amministrazione e io come custode giudiziario di quel terreno che è stato sequestrato dalla magistratura perché lì venivano perpetrati numerosi e gravi reati, bene, io ho affidato nella doppia veste di sindaco e custode giudiziario il canile alla gestione degli amici di Balto. Piano piano stiamo sfollando quel canile, ci stiamo cioè consegnando i cani che erano lì ricoverati a famiglie, a privati che li adottano e che li tengono con sé. Grazie a quest'opera degli amici di Balto, dei volontari che collaborano anche da fuori città con gli amici di Balto abbiamo potuto ridurre la presenza dei cani da 300 dispari fino a un centinaio, credo che adesso, mentre vi parlo, siamo sotto al centinaio. Questa attività è stata oggetto di attenzione nazionale, io sono stato tempo solo intervistato da emittenti nazionali di grande rilievo, di grande audience e il 31 di dicembre c'è stato questo collegamento con gli amici di Balto che hanno trascorso, insieme con i loro colleghi volontari, la notte del 31 l'hanno trascorsa con i cani nel canile, mi hanno spiegato per una ragione importante e cioè che essendoci poi alla mezzanotte gli spari, gli scoppi eccetera, i cani che stanno in quella struttura che sono già piuttosto provati dai maltrattamenti che hanno subito in passato avrebbero risentito di questo chiasso, di questo rumore, quindi avrebbe fatto loro piacere, sarebbe stato di loro consolazione la presenza dei volontari che li accudiscono e che loro conoscono. Durante questa mezzanotte del 31 con gli amici di Balto, con questo luogo, col canile, si sono collegate altre emittenti di carattere nazionale. Anche qui congratulazioni, anche qui grande simpatia per l'opera degli amici di Balto, dei volontari e dell'amministrazione comunale che ha con loro collaborato e il fenomeno è diventato un fenomeno virale. Ci sono state praticamente oltre un milione di contatti in rete con quel link che riguardava il canile a Cerignola, gli amici di Balto e quindi abbiamo preso atto di questo avvenimento, abbiamo gioito insieme con gli amici di Balto perché collaborando la prima volta negli ultimi dieci anni con i volontari, l'amministrazione e i volontari sono riusciti a avviare a soluzione questo problema e devo dire che l'aver risolto questo problema non ci ha per niente acquietati. Abbiamo dei progetti, abbiamo dei programmi importanti perché dopo aver eliminato a Cerignola il triste fenomeno del canile Lager, noi vorremmo essere i protagonisti di un nuovo investimento per far sì che Cerignola, andata agli onori delle cronache per un fatto spiacevole, triste e scandaloso, adesso recuperi completamente in classifica e vada a occupare il primo posto o uno dei primissimi posti come città che è attenta ai bisogni di tutti e anche dei nostri amici a quattro zampe. Bene, ci sentiamo domani, per ora io ho terminato. Ucchio vivo, l'estate vabbù.